oggi vi presentiamo delle forbici per capelli che provengono da premana una località della valsassina in provincia di lecco dove sono specializzati in lame sia per coltelleria che forbici tutti questi prodotti vengono realizzati con estrema attenzione e rigorosi controlli proprio qualitativi nei materiali e nelle finiture con delle tempere in acciaio speciale per garantire una maggiore durata nel tempo si tratta di una produzione artigianale quindi sono fatte a mano una a una queste in particolare sono in acciaio inox con finitura satinata sono adatte al taglio dei capelli regolazione della barba e delle basette il perno appoggiadito può essere svitato e tolto se si preferisce queste forbici hanno una delle due lame dentellata proprio per evitare lo scivolamento del capello del pelo durante il taglio ecco qui vediamo al microscopio 20 ingrandimenti che una delle due lame è proprio dentellata e fatta apposta abbiamo deciso di provare in casa l'utilizzo di queste forbici il fatto che siano in acciaio inox consente alle forbici di essere più resistenti e soprattutto non arrugginirsi anche in caso di umidità capelli bagnati o anche se si appoggia da qualche parte dove c'è dell'acqua ora invece vediamo delle forbici che servono per sfoltire i capelli entrambe le lame sono dentate proprio per garantire una presa perfetta anche queste acciaio inox di alta qualità tutte timbrate made in italy premana quindi assolutamente garantite se vi interessano queste o altri tipi di forbici potete visitare il nostro sito elettronicadidattica.com io vi ringrazio e vi aspetto per il nostro prossimo video buona giornata